Buongiorno a te e bentornato al nostro consueto appuntamento. Io mi chiamo Jennifer e come ogni settimana desidero proporti le novità di naturale italiano. Sapevi che il mercato dei prodotti dedicati agli intolleranti al lattosio è in continua crescita? Ed è proprio per questo che i protagonisti di oggi sono due prodotti facilmente digeribili anche da chi, come me, è intollerante al lattosio o ha semplicemente difficoltà a digerirlo. In queste particolari lavorazioni il lattosio, ossia lo zucchero contenuto nel latte, viene scomposto in due zuccheri più semplici da assimilare, glucosio e galattosio. E così nascono il burro del lattosato e il capri del lattosato, due delizie da gustare serenamente, per chi ama di un essere unito al gusto. Il burro del lattosato è un prodotto nuovo che garantisce tutto il sapore e la qualità dei prodotti soresina. Buono come un burro convenzionale, ma più digeribile. Gusto e leggerezza, l'unione che fa la forza. Il codice promo per una confezione da 125 grammi di burro del lattosato è 011079. Il codice promo per una confezione da 250 grammi di burro del lattosato è 011086. Il capri del lattosato è un formaggio cremoso estremamente versatile e dal gusto prelevato. Mantiene tutto il sapore del caprino di latte vaccino pastorizzato, ma senza lattosio. I tuoi clienti ritroveranno il piacere di gustare questo appetitoso formaggio tipico della tradizione culinaria italiana ogni volta che vorranno. Una festa per il palato, racchiusa in un prodotto unico, libero dal lattosio. Il codice promo per una confezione da 160 grammi di capri del lattosato è 978020. Cosa stai aspettando? Offri ai tuoi clienti la bontà e la leggerezza di sempre. Freschezza e climosità senza lattosio. Ne resteranno affascinati. Buoni, sani, freschi. Sarà semplicissimo venderli e rivenderli ancora. Per maggiori informazioni ti invito a leggere la newsletter. Ciao!